Nella vittoria del Lentigione è naturalmente lo zampino, il sinistro magico, anche se non è il piede buono, ma è diventato molto buono il piede di Zanoni che ha segnato un gol molto importante quest'oggi. Sì, sono contento del gol, ma sono contento soprattutto che sia arrivato magari in un momento in cui eravamo un po' in difficoltà, perché c'è da dire che loro sono partiti molto forti. Abbiamo passato 20 minuti in cui abbiamo fatto fatica a trovare il nostro gioco, poi siamo entrati in partita e dopo loro purtroppo hanno trovato il gol. E' importante rimetterla in piedi per l'intervallo e sono contento che il gol sia servito. Oltre a aver segnato un bel gol, come l'hai costruito? Perché sei partito addirittura dalla difesa, non era un'azione solita su calcio d'angolo che Zanoni stava avanti. Sei partito dalla difesa, hai fatto tutto il campo, poi Staiti ti ha lasciato la palla, non so se ti ha lasciata volontariamente o no, è stata veramente bella soprattutto l'azione. Sì, in realtà è partito da un loro cross che ho intercettato, a quel punto c'era spazio aperto. Allora in realtà anche in settimana tendenzialmente chi può portare palla e condurre in verticale è una situazione di gioco che succede, capita e quindi gli altri si adattano di conseguenza. Trovandomi in quella posizione lì è venuto fuori un 1-2 quasi casuale, mi sono trovato la palla sul sinistro e è andata bene. E anche il gol del 3-1 che non hai fatto tu, l'ha fatto Iodice, quasi uguale, anche Iodice non era nella sua posizione, si è trovato praticamente quasi verso la porta e ha segnato lui più da vicino, però è stato quindi il festival, la vittoria di voi difensori. Sì, in realtà sono contento anche per sia per Iodice che ormai si sta confermando un giocatore nonostante l'età di assoluta fidabilità e sono contento anche per Gianvincenzo Martino che è tornato al gol dopo ormai tanto tempo e ti devo dire la verità questa vittoria sotto tanti punti di vista ci dà fiducia perché fa capire che comunque ci siamo non abbiamo mollato, quelle davanti sono lontane però noi ce lo siamo detti dalla Tritium dopo aver passato una settimana in cui i risultati non sono venuti, dalla Tritium è partito il nostro nuovo campionato e noi dobbiamo cercare di prendere il massimo da quello che viene in tutte le partite, una alla volta. Rinascimento lentigione. Esatto, esatto, quello deve essere lo spirito, deve essere partita dopo partita, cercare di portare a casa il massimo risultato. Bene, grazie. Grazie.